Per la prima volta lo stabilimento Buzzi Unicen di Vernasca apre le porte alla stampa, alle telecamere di Tele Libertà. Siamo venuti a verificare non tanto come si produce attualmente il cemento, quanto piuttosto capire che impatto anche pratico e logistico avrà il progetto in fase di discussione, vale a dire l'alimentazione dell'impianto con massimo 60.000 tonnellate di CSS, combustibile solido secondario, vale a dire ricavato dai rifiuti indifferenziati, un progetto che sta facendo molto discutere. C'è stata una grande, c'è tuttora una grande mobilitazione in Valdarda. L'azienda ha deciso di aprirsi e di mostrare appunto l'interno del proprio stabilimento in attesa della pronuncia della conferenza dei servizi che è passata dalla provincia alla regione a propria causa della riforma istituzionale, un passaggio che sta rallentando notevolmente l'iter. Tanto la dirigenza di Buzzi Unicen quanto i comitati della Valdarda sono appunto in attesa del pronunciamento definitivo. Non si spengono le proteste ma l'azienda ha deciso di adottare una strategia molto più aperta nei confronti del territorio, delle istanze che arrivano, proprio per volere, dovere anche di trasparenza. Dunque entriamo e cerchiamo di capire bene di che cosa stiamo parlando e soprattutto che impatti potrà avere. Ci troviamo nella zona che rappresenta il cuore del progetto per l'utilizzo del CSS. Qui dovrebbe sorgere una nuova struttura, un nuovo impianto che riceverebbe, nel caso passasse appunto il progetto di Buzzi Unicen, i camion con il CSS, con il Carbonext, che poi servirebbe per alimentare un bruciatore che è già presente, che verrebbe proprio alimentato da questo combustibile per il funzionamento di tutto l'impianto. Attualmente ricordiamo che viene utilizzato carbone e viene utilizzato anche olio combustibile. Siamo saliti a 95 metri di altezza, il punto più alto dello stabilimento Buzzi Unicen di Vernasca. Alle mie spalle potete vedere il cammino. È da lì che oggi escono i fumi di parte dell'impianto, in particolare quello che serve per cuocere i materiali. Proprio da questo cammino uscirà, uscirebbe il prodotto della bruciatura del Carbonext, del CSS. L'azienda ribadisce il fatto che, nel caso venisse approvato il progetto, non ci sarebbe un significativo cambiamento delle emissioni e soprattutto sottolinea che le emissioni stesse sono già oggi e sarebbero anche in futuro, anche con il Carbonext, ampiamente sotto i parametri, i limiti dettati dalla normativa. Si chiude qui il nostro viaggio, la nostra visita allo stabilimento Buzzi Unicen di Vernasca. Abbiamo raccolto la posizione dell'azienda che ribadisce la legittimità delle proprie richieste, ma soprattutto è importante sottolineare la grande apertura che è stata fatta non solo nei confronti della stampa, ma un po' di tutta l'opinione pubblica. Vuole essere un primo passo per un confronto sicuramente più sereno e disteso rispetto a quello del recente passato. Ci sarà proprio sabato un nuovo incontro da parte del Comitato, possiamo aver dato un piccolo contributo. L'ultimo che vogliamo dare, quello finale, riguarda il Carbonext, il CSS, se ne è parlato tanto per la prima volta. Possiamo anche farvi vedere di che cosa si tratta perché in questo boccettino sono raccolti i prodotti della lavorazione per la produzione del Carbonext. Sicuramente il dibattito proseguirà in attesa della decisione finale della conferenza dei servizi di Bologna. Magari oggi si può fare un passo in avanti sicuramente nel confronto, nel rispetto delle reciproche posizioni, ma sicuramente si può avere un canale di dialogo.